L'ultimo con la regia della cucinotta, hanno fatto viola di mare, la femmina che diventa maschio, perché la viola di mare è ermafrodite, senza sesso. Allora, questa è bellissima, c'è dell'acqua meravigliosa, poi c'è un sacco di gente, poi si buttano i tuffi da là sopra, l'altro sono bassi, chi lo butta pure da là sopra. E poi qua ci sono, vedete tutte queste discese, da lì ci scendevano i tuffi e una barca messa qua sotto, lo schifazzo, che è una vecchia barca da carico, c'era una porta a Trapani, serviva per portare il sale al porto e per portare i tuffi da Favignana, oltre all'atterrata alimentare, i tuffi a terra piena. Se mettiamo in un passato, vedi, qua, là c'è un'altra, qua c'è un'altra, qua c'è un'altra, qua c'è un'altra. Dalla costa, è il punto più vicino, qua ci sono delle grotte che vanno fino a Favignana, ci sono tutte grotte comunque di tuffi, diciamo, lavorate. Quanto sono lunghe? Quanto sono lunghe? Cioè quante dà qui da Rioffa a Favignana? No, qua a Favignana ci saranno di tre chilometri. E c'è lì tutto sotto grotte? Spettacolo. Poi qua ci sono dei posti bellissimi, per, oltre al mare, a terra, quando eravamo giovani, e allora i ragazzi venivano a farlo, con sacca a pelo, ci dormivamo lì sotto, queste, allora vi faccio vedere, una cosa, eravamo davanti. Anche perché non eravamo mai da soli, non eravamo sempre in compagnia, queste cose si fanno in compagnia, stenda più bello tutto, stenda tutto più bello.